Allora Salvatore, noi ti volevamo fare, anzi io ti voglio fare un grande saluto, però ci sta un amico che si vuole unire a me. Sta qui. Salvatore mi ha ucciso. Mi ha ucciso. Siamo un po' alienati, l'attesa di Napoli Juve. Oh, grazie del messaggio ancora. Un bacione, Salvatore, torna presto.